Il gruppo giudici capitanati da Basile Gianluca e segretariati da Chiara Bramati e il Bar Paoli che ci offre assistenza pur in arca. Andiamo ora a vedere al passaggio meno 9 al termine, siamo già nel giro dei meno 9, al prossimo passaggio dei meno 8 punti. Punti e passaggio, 47, 72 in primo passaggio, meno 8. Passaggio dei meno 7, 44, 47 al passaggio. Passaggio dei meno 6, 47, 72 in primo passaggio. Passaggio dei meno 5 punti in palli. Passaggio dei meno 4, 47, 343. Passaggio dei meno 4. 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 Passaggio dei meno 3, meno 3 al passaggio. Punti in palli. Passaggio dei meno 4, 47, 72 in primo passaggio. Passaggio dei meno 4, 47, 72 in primo passaggio. Passaggio dei meno 4, 47, 72 in primo passaggio. Passaggio dei meno 2. Punti e passaggio. Passaggio dei meno 2. Punti e passaggio. Passaggio dei meno 4, 47 in primo passaggio. Passaggio dei meno 4, 48 in primo passaggio. Volata per il passaggio 3-2-1 in taglio a questa volata per questa gara punti.